Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Zatiglien.22 e oggi ragazzi sono qui con un video veramente epico, come vedete i miei polsi non esistono ho dei polsi volanti e oggi qui nella patch 1.34 vi farò vedere come fare i polsi invisibili quindi anzitutto ragazzi ci richiamo al nostro appartamento, si può fare solo dall'appartamento questo glitch quindi ragazzi se non avete le cose che vi faccio vedere dovete andare a comprare e poi tornare all'appartamento allora innanzitutto dovete andare su parti superiori e andare su maglie e dovete mettere dolce vita nero, poi andiamo su giubbotti da lavoro e mettiamo da lavoro pesante nero e poi andiamo su maglie da baseball e come vedete ci da i polsi invisibili ecco qui ragazzi subito fatto, ci vuole veramente pochissimo a farlo ringrazio a XMAT che me l'ha detto come vedete qui in sessione con me il primo della lista quindi passate sul suo canale, lui si chiama Zgrost vi mettere il nome in descrizione, ringraziate tutto a lui perché me l'ha detto lui, se no senza di lui non avrei fatto veramente un cazzo e niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi